L'Accademia è innovazione, l'Accademia è storia. L'Accademia per me è una famiglia. Ho scelto l'Accademia perché dal primo momento in cui sono entrato ho deciso che questo sarebbe stato il posto giusto dove mettere in atto la mia visione creativa. L'Accademia offre una formazione completa che permette ai nostri studenti di ricoprire diverse professionalità nel sistema moda. In Accademia ho avuto l'opportunità di conoscere tanti esperti e soprattutto di poter lavorare con dei professionisti del settore. In questi tre anni all'Accademia di Costume Moda abbiamo avuto modo di sperimentare tre settori diversi, l'accessorio, l'abbigliamento e il costume. Ho scelto comunicazione di moda in Accademia poiché non si sofferma su un solo aspetto della comunicazione ma l'affronta in maniera completa. All'interno dei corsi di Accademia Costume Moda andiamo in profondità cercando di immaginare le professioni della moda del futuro. Ho scelto Fashion Design Management perché è un corso che unisce la parte manageriale e la parte creativa. È sicuramente stato uno specchio per me, di me stessa, di quella che è la mia personalità e il mio stile. Ciò che mi ha colpito di Accademia è la sua essenza, la sua storia, ma soprattutto il suo voler far emergere da ognuno di noi studenti la propria individualità attraverso l'espressione delle nostre passioni e dei nostri interessi. Si usa dire che ovunque vai trovi sempre qualcuno dell'Accademia.